Sonia Bruganelli condivide il pensiero di chi si scaglia contro striscia la notizia e sembra prendere le difese di Alessia Marcuzzi, ultimamente sempre più spesso attaccata dal programma di Mediaset per via del cosiddetto canna gate all'isola dei famosi 2018. Sonia, infatti, riposta all'analisi delle critiche che il TG satirico di Antonio Ricci fa alla conduttrice di Canale 5, condividendo sul suo profilo Instagram un lungo post pubblicato online in data venerdì 23 marzo 2018. Ecco i passaggi più duri contenuti nel messaggio recentemente comparso sui social, mi chiedo, scrive online il giornalista di chi, Valerio Palmieri, punto punto punto, perché mai un programma come striscia si accanisca tanto su un programma della stessa azienda e della stessa rete perché insista a colpire una donna con accuse pesanti, pressanti e offensive della sua dignità. Sempre su Instagram Sonia Bruganelli appoggia chi motiva gli attacchi che Alessia Marcuzzi sta incassando da striscia la notizia, anche usando toni decisi contro il programma di Canale 5 targato Antonio Ricci, penso che striscia, scrive ancora Palmieri online, lo faccia perché grazie a questi attacchi personali e violenti riesce ad incrementare i propri ascolti e abbattere finalmente i soliti ignoti di Rai 1, perché il pubblico ama questi attacchi, ama la gente che litiga, ama le offese. La stessa Sonia Bruganelli che pare avallare quel commento, che riserva un attacco frontale a striscia la notizia, programma di Mediaset che ultimamente sta forse criticando un po' troppo aspramente lo stile di conduzione di Alessia Marcuzzi, credo, questa la conclusione del lungo post apparso in rete, che lo faccia perché alla fine questa è televisione e in tv è tutto una metafora, le veline mezze nude che ballano sono una metafora, due comici che anziché fare ridere attaccano una donna sono solo una metafora. Ma a me tutto questo fa schifo, e lo dico.